Uno dei limiti che spesso hanno anche gli autori è se non si può chiedere la testa di nessuno. La testa anche questa nella rivoluzione francese l'hanno avuta e poi adesso esiste la democrazia con quelle che sono le regole democratiche di un Parlamento che ha delle leggi. Per cui Bondi sta facendo del suo meglio, è stato molto deluso da quello che è successo a livello governativo perché ovviamente aveva preso degli impegni fuori. Ci stiamo battendo, stamattina in Parlamento io ho avuto al mio ordine del giorno la discussione. La notizia buona è che un rappresentante, il sottosegretario alle finanze, mi ha accettato il mio reintegro dell'emendamento che è stato firmato anche da altri parlamentari. Per cui insomma con un processo difficoltoso mi auguro che una volta arrivati al Senato troveremo una soluzione. Ho scritto al Presidente della Repubblica, all'onorevole Giorgio Napolitano che mi ha risposto stamattina di aver letto la mia missiva. Il problema è più ampio, non riguarda solo il cinema, riguarda l'editoria, riguarda il teatro, la lirica, tutti quelli che sono progetti culturali innovativi. Questo è un paese che se non avrà una lungimiranza in quello che è la capacità di gettare oggi i semi di quelli che saranno probabilmente i risultati che vedremo forse non la mia generazione, ma i miei figli o i figli dei miei figli, il risultato politico, il fatturato politico-culturale di questa legislatura si vanificherà come in un bellissimo libro di Covo Abe che si chiamava la donna di sabbia, non rimarrà nulla. Benissimo, tagliamo tutto, però diamo il piano B. Qual è il piano B? Qual è? Non c'è ancora. Allora si rischia di uccidere tutto e di non dare però quella dinamica slegata da lacci e lacciuoli che sono quelli che danno velocità a qualsiasi forma di imprenditoria.